Ormai un appuntamento tradizionale, quello con il direttore Vittorio Feltri che saluto. Buonasera direttore, ben arrivato. Buonasera a tutti voi, a te in particolare, andiamo avanti. Procediamo. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto no alla scarcerazione di Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, lo ricordiamo, sconta sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, la motivazione è che non è grave, deve star dentro. Posizione hai a riguardo? Ma io non ho potuto visitare questo uomo, perché io non sono in grado di dare un giudizio clinico, ammesso che io abbia le capacità di dare un giudizio simile. Certo è che mi sembra strano che un uomo di quell'età, conciato o male, come dicono, essere, sia costretto a rimanere in carcere, a morire, quando mi pare che l'evento definitivo per lui non sia molto lontano, almeno questo dicono i medici e i famigliai. Mi sembra veramente un atto di crudeltà quello di lasciare un uomo conciato così in galera fino all'ultimo, poi avranno le loro motivazioni, peccato che non riusciamo a comprenderle, non riusciamo neanche a saperle, a dire la verità. Che stia bene mi sembra del tutto improbabile, visto le malattie che ha, però vabbè, a me dispiace moltissimo, ma cosa ci posso fare? Sto qui, assisto a questo scempio come tutti gli italiani e poi vedremo come andrà a finire. Mi è chiaro, mi è chiaro. Senti, è periodo di festival di Sanremo, sei appassionato del genere o te ne frega niente? Io sinceramente devo dire che del festival non mi importa niente, non seguo con grande interesse la manifestazione Canora, ma questo non da oggi, da sempre, però mi rendo conto che gli italiani avendone piene le scatole della politica preferiscano ascoltare delle canzoni di solito brutte del festival, piuttosto che non so io sentire parlare di Maio e a questo punto non posso neanche dare loro torto. Poi si dice che in questo periodo la politica dovrebbe entrare nel vivo, invece grazie al festival di Sanremo entra nel morto, perché durante tutta la settimana del festival credo che nessuno avrà la voglia di attizzare i politici nelle loro discussioni del cavolo come quella che sta infuriando in questi giorni a proposito del deficiente che a macerata ha sparato. Tutti i partiti, gli uomini di partito che discutono di questo fatto, anche con toni molto accesi, ma nessuno di essi si è preoccupato di dire una mezza parola di quella povera disgraziata che è stata ammazzata e fatta a pezzi e che mi pare si chiami Pamela. Io credo che sia più importante invece focalizzarsi su Pamela che non sul deficiente che ha sparato, ma che comunque per ora almeno non ha commesso una strage, ma si è limitato a ferire dei poveraggi che non c'entrano niente, quindi io deploro questo signore, non ci mancherebbe altro, però insomma mi pare che una ragazza fatta a pezzi meriti qualche attenzione che invece non c'è, non c'è da parte dei politici, i quali se ne fregano se una fanciulla viene sminuzzata come se fosse un capretto. Questa cosa mi ha lasciato veramente di stucco, mi ha lasciato perplesso e anche leggermente indignato. Sì perché il killer, lo ricordiamo della diciottenne di Roma, aveva il permesso scaduto, aveva precedenti penali, non poteva assolutamente rimanere nel nostro paese. Due vicende, questa del nigeriano che ha fatto a pezzi la ragazza, dimmi Vittorio. Sì però Roberto, attenzione perché il GIP non ha ancora deciso se sia stato questo signore ad uccidere la ragazza, ha deciso che è stato lui a spezzettarla e a occultarne il cadavere, ma non si sa ancora di che cosa sia morta. Per cui sarei cauto anche nell'accusare questo nigeriano di omicidio, visto che nessuna prova ancora esiste a suo carico. Dopodiché non è che mi fa simpatia comunque uno che si mette lì a spezzare in piccoli tocchi una ragazza, non è questo il punto, però aspettiamo a condannare che finisca l'inchiesta, almeno si sappia quali siano le responsabilità di questo signore. Se risulterà che non è stato lui a ucciderla, ma si è limitato a farla in tocchi, è ovvio che le imputazioni debbano cambiare e essere proporzionate ai delitti commessi. Sì, hai fatto bene a fare questa precisazione che è vera e dobbiamo essere tutti cauti, ma c'è un dato di fatto, questa persona non sarebbe dovuta stare nel nostro paese e quindi è colpa nostra, non trovi? Sì, hai ragione, hai ragione Roberto, questo signore non doveva stare qui, lui come almeno qualche milione d'altro, perché nel nostro paese entra chiunque, nessuno ferma, nessuno controlla, noi praticamente abbiamo spalancato le frontiere e accettiamo qualsiasi delinquente, qualsiasi nulla facente, qualsiasi balordo e questo però è noto a tutti e il problema diciamo così del razzismo che comincia a prendere piede, deriva dal fatto che in Italia arriva chiunque e allora se noi qui aumentiamo a dismisura il numero dei neri o dei bianchi, ma comunque degli stranieri, è ovvio che prima o poi scatta il rigetto e quindi gli italiani si ribellano, poi ci saranno degli episodi come quello di macerata, disgustosi, ma che sono comunque destinati ad aumentare, perché se aumenta il numero di coloro che ci invadono aumenta anche il tasso razzistico in ciascuno di noi, su questo mi pare che non ci siano dei dubbi, ma farlo capire ai nostri politici è impossibile, i quali trovano più comodo aprire le frontiere, aprire i confini, lasciare entrare chiunque per incapacità, per concludenza, insomma siamo di fronte a un fenomeno micidiale che rischia veramente di guastare la convivenza in Italia, ma nessuno si preoccupa, la prima cosa che farei secondo me dovrebbe essere quella di chiudere le frontiere, rimpatriare coloro che non hanno diritto a rimanere qui, cioè che non sono profughi, ma sono dei signori che vanno alla ricerca dell'avventura e però capirai che poi scattano i buonisti, i progressisti, quelli di sinistra che sono tutti invece a parole amorevoli, poi quando la gente arriva qui anziché accoglierla bene, sappiamo che viene sbattuta per strada, non si tiene conto che l'Italia è un paese con un debito pubblico altissimo che non ha risorse neanche per i propri cittadini, come può avere delle risorse per mantenere gli immigrati, mi sembra veramente un atteggiamento autolesionistico che è destinato a creare dei guai grossissimi nel nostro paese. Ecco che non sono necessariamente poi il fatto che uno si mette a sparare, ma sono tanti altri piccoli episodi, ma che effetto ti ha fatto quel matto con il tatuaggio, la bandiera italiana con la quale si era affasciato, che ha messo le sue colpe, che a casa aveva fior di letteratura nazista, che impressione ti ha fatto? L'impressione di essere un coglione un po' esaltato che tuttavia riflette una mentalità che non è poi così poco diffusa come si pensa, molta gente è esasperata. Pensavamo che fosse finita questa vicenda di Silvio che la vince su Veronica e quindi non gli deve più pagare alimenti milionari, lei va in Cassazione e dice io avevo una brillante carriera d'attrice, per lei ho sacrificato tutto e continua sta telenovela, povero Berlusconi. Ma sì, anche perché io non ricordo che la signora Veronica, persona gentile, tutto quello che volete, avesse una carriera così brillante davanti a sé, in ogni caso se ha rinunciato a quella supposta brillante carriera vuole dire che aveva la sua brava convenienza, perché in fondo sposare Berlusconi significa non fare un cazzo per tutta la vita, perché provvede lui a portare a casa la pappa, questo io credo, però a questo punto bisogna invece por mente ai quattrini che il giudice di primo grado stabilì che Berlusconi dovesse versare alla signora Lario ed erano cifre, la cui entità con precisione non ricordo, ma comunque cifre sbalorditive e adesso che invece il Tribunale ha ridimensionato questo compenso mostruoso, la signora Lario dice che lei i soldi da restituirli non li ha, restituirli al marito non li ha, perché li ha finiti, li ha spesi tutti, mi domando dove cazzo li abbia messi, perché era una montagna di quattrini che noi due e tutti quelli che stanno nello studio non riusciremo a spendere in dieci vite, proprio anche con la buona volontà, quindi io sono un po' stupito di fronte a queste dichiarazioni della signora, che ripeto non mi è antipatica, però che faccia anche la vittima dopo aver discorso montagne di denaro e dopo che il Tribunale abbia deciso di ridimensionare quelle cifre che lei mensilmente incassa, insomma qui c'è da fare addirittura una risata più che una discussione, la signora Lario credo che possa vivere come tutti noi con una cifra ragionevole, senza pretendere che il marito si sveni per lei, anche se svenare Berlusconi credo sia un'impresa difficile. Sì Vittorio, preciso solo una cosa, che io ma soprattutto Vittorio Feltri, tutti quei milioni di euro non solo non li avremo spesi ma saremmo riusciti addirittura a moltiplicarli, precisiamolo questo. Sì, questo non c'è dubbio, comunque anche se ci fossimo abbandonati all'orgia dello spreco non saremmo riusciti a far secca una somma di questa rilevanza, comunque è una vicenda che sconfina nel ridicolo e mi auguro che i giudici non ascoltino le istanze della signora Lario, ma di onoreto a Berlusconi che pur avendo tanti soldi non è detto che debba versarli a moglie che mi pare possa vivere tranquillamente con una cifra più ragionevole. Senti, i 5 Stelle hanno dato mandato ai loro di sputtanare gli avversari nelle liste politiche degli altri partiti che hanno qualche scheletro nell'armadio e poi si scopre che loro candidano della gente improponibile, della gente che non sapeva di essere candidata e della gente anche, anche se poi quello ha rinunciato, pagava l'affitto di casa 7 euro e lo mandavano al Senato, quello se non avesse rinunciato mi pare che abbia rinunciato. Ma come cavolo le fanno queste liste? Io penso che, lo dico tutti, ma quasi tutti abbiano qualche scheletro nell'armadio, però quelli del Movimento 5 Stelle che pure hanno i loro bravi scheletri nell'armadio, li hanno piegati così bene che non si sono visti fino a ieri, però anche gli scheletri ben piegati nell'armadio prima o poi vengono fuori, stanno venendo fuori e ciò dimostra che i signori grillini non sono diversi dagli altri politici, cioè c'è della brava gente tra di loro, ma ci sono anche dei mascalzoni, per cui non si capisce perché i pentastellati si pongono su un piano più alto rispetto ai loro avversari, non è vero. Poi basta guardare in faccia Di Maio per capire che non siamo di fronte a un genio, ma a un ragazzotto che dovrebbe ancora frequentare, non dico le elementari, ma le scuole medie e il ginnasio di sicuro. Senti, io avevo capito che sia Casini che Prodi appartenevano al passato, invece sono il nostro futuro. Prodi torna a pontificare e Casini torna in Parlamento. Alla fine che commento fare? Partiamo da Prodi. Prodi tutto sommato è molto più apprezzabile perché è un signore che dopo essere stato sconfitto se ne è andato via. Adesso se anche dovesse ritornare non mi stupirei più di tanto perché in fondo, almeno dal mio punto di vista, sarebbe il benvenuto perché se non altro è uno che qualcosa ci capisce ed è per Berlusconi e per altri un avversario anche abbastanza corretto, questo lo devo dire con tutta sincerità. Mentre Casini riguarda più l'aspetto folcloristico della nostra politica perché ha cominciato giovanissimo come assistente di Forlani che tutti noi ricordiamo, un parlamentare inossidabile e sono passati dei secoli in pratica e lui riesce ancora a stare lì e saltabeccando da uno schieramento all'altro, ultimamente è diventato persino Presidente della Commissione di inchiesta parlamentare sulle banche dove non ha combinato assolutamente niente, non per incapacità, anche per incapacità ma soprattutto perché fare un'inchiesta parlamentare a sei mesi dalla scadenza della legislatura significa farla nascere morta e infatti non ha combinato nulla, non è successo niente, sono stati assolti tutti, tutti applauditi, i ladri delle banche sono ladri che hanno mandato in malora, migliaia e migliaia di cittadini italiani sono praticamente rimasti impuniti e Casini che ha contribuito a questa assoluzione generale dopo aver reso servizio in favore dei ladri banchieri è stato premiato essendo stato candidato addirittura nel Partito Democratico che per molti anni era stato l'avversario numero uno di Casini, quindi Casini ha dimostrato che pur di rimanere seduto sulla poltrona è disposto a vendere non solo il culo col quale si appoggia sulla sedia stessa ma anche il cervello che forse non avendolo non ha fatto fatica ad alienarlo. Qua è difficile trovare qualcuno che ne abbia di cervello perché la rassegna che stiamo facendo conta pochi cervelli, ha un cervello invece l'organizzazione criminale dell'ISIS perché sembra che ci abbia sparato dentro nel nostro paese 50 terroristi, è un allarme dell'Interpol, quegli allarmi che vengono sempre smentiti e poi puntualmente si rivelano veri, ricordiamo anche l'attentato di Barcellona, ci fu un allarme dell'Interpol, fu sottovalutato e successe quel che è successo, adesso il Ministero dell'Interno dice che sono tutte balle, non è vero che ci sono questi 50 terroristi ISIS infilati dentro insieme ai profughi nel nostro paese, secondo te? Ma sai io non posso sapere che abbia ragione, se sia vero che sono arrivati i 50 terroristi oppure che non si tratti di terroristi ma di Boy Scout, io questo non lo posso sapere, sto anche io a quello che si legge sui giornali, alle notizie ufficiali, però diciamo che l'esperienza mi ha insegnato che bisogna sempre diffidare delle versioni ufficiali, quindi istintivamente propenderei per la tesi che quelli dell'ISIS sono arrivati, ma qui saranno accolti festosamente perché noi abbiamo la cultura dell'accoglienza, li manderemo in albergo, li manteremo, gli daremo anche i soldi per le sigarette e dopo di che gli lasceremo il tempo per organizzare qualche attentato, mi auguro non in Italia, ma non è che se un attentato anziché in Italia avviene in Francia, io sono contento, mi dispiace anche se avviene in Francia, comunque noi siamo pieni di musulmani, molti dei quali sono anche persone perbene, ma ci sono anche molti banditi, lo sappiamo, che vivono secondo una cultura che non può essere assimilabile alla nostra, una cultura che respingiamo, una cultura oscurantista che arriva dal passato e che non si è mai evoluta, quindi noi non possiamo convivere con i musulmani o non con tutti i musulmani proprio perché c'è un'inconsigliabilità di pensiero, di abitudini, di costumi, quindi mi auguro che se sono 50 comandanti dell'ISIS vengano mandati fuori dall'Italia anche a calci nel sedere. Va bene Vittorio, il nostro tempo, il tempo della trasmissione ovviamente è finito perché il nostro continua per lunghi anni ancora alla faccia di tutti quei coglioni che ci dicono le parolacce, mentre noi invece di parolacce non ne diciamo mai, no dicevo, il tempo è finito ti auguro buona serata, buonanotte, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti voi, a presto. Grazie.